La riforma costituzionale di Renzi è una riforma centralista, su questa sono tutti d'accordo. Qui abbiamo le competenze concorrenti, sono le competenze delle regioni a statuto ordinario, istruzione e tutela della salute. Oggi vengono gestite dalla Lombardia e dal Veneto, per esempio, se vincerà il sì, queste riforme andranno allo Stato. Oggi i trentini vanno a curarsi in Lombardia e in Veneto perché si fidano della salute di quelle regioni, perché è gestita bene dalle regioni. L'altro giorno è caduto un ponte. Un ponte è caduto a Varese, ai confini con la Svizzera. Perché? Perché il ponte è gestito dallo Stato. Noi andiamo a curarci in Lombardia perché ci fidiamo del loro modo di operare nella sanità e in Lombardia cascono incredibilmente i ponti. Le strade sono gestite dallo Stato e cascono i ponti. La salute la gestisce la regione e noi andiamo a farci curare. Questa riforma toglie competenza nelle regioni a statuto ordinario. Lì aumenterà ancora il senso di disagio verso le speciali, aumenterà il senso di inadeguatezza verso le speciali, anche per questo voteremo no. Gli uomini liberi votano e votano no.